Sul sito del Comune di Battipaglia è stata pubblicata apposita informativa al cittadino per il reddito di inclusione, ossia il REI, al fine di migliorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini battipagliesi. L'avviso pubblico quindi è consultabile per tutti coloro che vogliono partecipare. La modulistica relativa al beneficio REI è disponibile presso IMS e proprio sito, ma anche nell'ufficio comunale, settore educativo e socioculturale, ufficio ossia REI, contributi alloggiativi, sito in piazza Aldomoro numero 1, aperto a pubblico nei seguenti orari ed orari, lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia.